La povertà, ad esempio, che magari c'è in Africa e invece che abbiamo qui, è diversa, Suor Michela? Certo, la povertà è la vera povertà, perché a certe persone manca il necessario. E poi, dovete vedere, lei è stata mai in Africa? No. Come vivono? Noi abbiamo le case belle, loro hanno le capanne. Che ogni anno se la devono rifare perché quando arrivano le piogge, le piogge torrenziali, la paglia si disfa e poi eccetera. Quindi ogni anno si devono rifare la casa. E poi dormono ancora, siamo nel 2010, nel 2011, dormono ancora per terra con una stuoia. Questa è la povertà.